Stati attenti, le innovazioni iniziano stasera. C'è qualcosa che voglio vedere. Cosa è questo? Ci sono gli archivi, dove stiamo guardando le ricordi del lavoro di Earth. Tu sei uno di noi, un warrior di Gode. Noi! Noi! Why does the devil choose one person over another? There's no explanation. The devil can choose anyone. Roger! Ready? A demon's greatest threat is not to your body, but your soul. Is that the devil? I believe it is. There's some people in the diocese that I want to talk to about Angela. He's got to help this way. No! He's dead! He's dead! Show yourself! Stop! Wave! Ev殺... C padre